La Lombardia che con il Piemonte e la regione in Italia dove la pandemia di coronavirus continua a mostrare numeri importanti è ancora in attesa della delibera regionale sui test sirologici annunciata già la settimana scorsa. Mentre si procede alle riaperture mancano ancora anche le mascherine non sempre disponibili nelle farmacie. Mercoledì si riunisce la commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia in regione Lombardia ma secondo il capodelegazione della commissione sanità in regione Gian Antonio Girelli ad oggi ciò che si sta facendo è ancora insufficiente. Noi ci troviamo appunto in piena fase 2 dove avere disposizioni dispositivi di sicurezza poter attrezzarsi in tutti i mesi anche di rilievo di possibili contagio quant'altro è di assoluta importanza. In realtà ci stiamo muovendo ancora nella confusione e soprattutto nella mancanza di risposte puntuali che ha caratterizzato la fase della fase 1. Non essere stati capaci non essere per il proseguo capaci di affrontare misure di sicurezza rischia di farci rivivere situazioni che purtroppo abbiamo già conosciuto ma che in questo caso sarebbero particolarmente impattanti e negative. Il tema dei test ancora deve a distanza di giorni e giorni uscire una normativa che indichi con chiarezza i percorsi che vanno effettuati. Noi rischiamo di aver fatto tanta produzione di norme ma di aver l'incapacità di tradurle in concreto sullo sfondo. Vorrei ricordare il tema ancora anche dei presidi territoriali perché noi abbiamo un numero di usca ancora insufficiente rispetto a quelle previste dalla normativa ma non tanto perché sono previste dalla normativa ma perché sono il numero capace di far fronte alle emergenze e le necessità che nascono sui territori. Credo che continuiamo a rimanere largamente insufficienti e questo e questo dispiace preoccupa anche perché ci troviamo di fronte comunque ad un virus ancora tutto da da comprendere soprattutto nelle evoluzioni future rischia davvero di essere particolarmente pericoloso per il territorio lombardo. Non vorrei che in mezzo a un po' questa voglia di ripresa che cede tante ed è necessaria si perdesse di vista che Lombardia e Piemonte continuano a consegnarci dei numeri su cui dobbiamo riflettere ma soprattutto agire.